Cari amiche e cari amici, uno dei principali problemi che deve fronteggiare l'Europa è la difficoltà di integrazione culturale ed economica degli immigrati, anche oltretutto degli immigrati di seconda o terza generazione. E questa è una situazione grave perché ha dato vita a vere e proprie comunità ghettizzate e spesso, pensiamo alle ballie in Francia, degenerate in sommosse, anche in Inghilterra la stessa cosa è successa. I paesi europei ovviamente esigono il rispetto delle leggi per chi viene qui, però queste leggi spesso vengono a contrastare con le abitudini arcaiche a volte, spesso legate a dettami religiosi. Tutti sono tenuti a rispettare le leggi dello Stato e questo in linea di principio credo che nessuno può essere in disaccordo, tutti siamo d'accordo. il problema è quando le leggi dello Stato assumono carattere di religione, perché quando queste riguardano l'etica personale, questione di principi, di valori, allora ogni Stato possiamo dire che ha la sua ideologia, perché ha un suo bagaglio di principi, di valori, che in un certo senso costituisce tra virgolette la sua religione, cioè la sua dottrina. Per fare un esempio, non bisogna discriminare uomo e donna, oppure la parità di diritti, queste cose, ecco, queste sono delle asserzioni di principio con cui si può essere d'accordo o meno, però costituiscono dei dogmi laici nei paesi, ad esempio, europei. Per questo dico religione dello Stato, ovviamente religione tra virgolette, oppure religione laica. Perché? Perché le leggi sono leggi e si è costretti ad aderire alle leggi, indipendentemente se al governo ci siano degli ayatollah o ci sia un governo parlamentare. E qua bisogna mettersi d'accordo sul significato che diamo alle parole, perché la religione, come religione individuale, allora intendo personalmente religio, riunisco, quello che noi pratichiamo con la meditazione, con lo yoga, cioè riunirci con la parte più autentica di noi stessi, con il nostro sé. E questa è la religione, secondo la mia prospettiva, individuale. La religione, dal punto di vista istituzionale, è un complesso di credenze, un complesso di diritti, di atti di culto, collettivi che sono relativi a un ordine divino, un ordine superiore, al di là della sfera umana. Invece le leggi dello Stato, nella Europa moderna, sono un insieme di regole finalizzate all'organizzazione della vita sociale, che sono discusse in Parlamento, sono promulgate da persone che rappresentano la volontà popolare e con procedure che possono poi essere modificate. Perché siamo sul piano umano, non ci sono riferimenti a enti superiori e quindi non ci sono riferimenti dogmatici da questo punto di vista. Secoli di pensieri luministi ci hanno portato alla situazione in cui la Chiesa Cattolica ormai può legiferare come vuole, nell'ambito della sfera etica. Ogni individuo però è libero di seguire le sue direttive o meno. Invece lo Stato detta legge anche su questioni di comportamento personale. Pensiamo ad esempio al divorzio, all'aborto, la questione in ballo del matrimonio omosessuale. C'è un ampio dibattito rispetto a questi temi, che possono poi essere sempre modificati. Queste leggi possono subire sempre delle modifiche. Invece le leggi di origine divina sono diverse perché, ritenute immutabili, di conseguenza possono sorgere anche conflitti da la legge dello Stato e le prescrizioni di ogni singola religione. E allora a quel punto nascono inevitabilmente delle zone grigie. però, in ogni caso, sia le religioni che gli Stati emanano come insieme di leggi, noi siamo tenuti ad osservare questo insieme di leggi, no? Perché siamo di un intervallo? Perché altrimenti ci sono delle punizioni. L'importante è esaminare fino a che punto queste leggi, sia emanate da un Parlamento laico o da un Consiglio religioso, interferiscano nelle libertà individuali. Qui il discorso poi si fa complesso, perché io adesso sono una persona che ha letto molti molti libri, ma non ho specializzazioni particolari, tantomeno per quanto riguarda la giurisprudenza. Però delle riflessioni legate all'etica, alla filosofia, me la sento di affrontarle. Nel caso specifico dell'Islam, l'Islam che poi abbiamo visto è una realtà molto variegata, quindi prendiamo l'Islam dell'Arabia Saudita o dell'Iran, paesi che cercano di proporsi come modello di altri stati musulmani. Lì la religione interviene in tantissimi settori privati, perfino su cosa si mangia, su cosa si beve, perfino sulla masturbazione. Queste sono tutte sfere che noi europei diamo per scontato che lo Stato non dovrebbe intervenire in queste sfere, soprattutto in queste molto personali, no? Però da una prospettiva di certa religione, come vedremo poi andando avanti con il video, intervenire anche nella vita individuale non è una cosa folla. Bisogna vedere sempre i contesti, amici. Bisogna sempre vedere i contesti in cui nascono queste leggi. Ripeto, ci sono delle zone grigie in cui è difficile decidere se lo Stato deve o non deve intervenire, questo intendo per zone grigie. Quello che tengo a sottolineare è che c'è qualcosa che accomuna il modo di legiferare delle istituzioni religiose e delle istituzioni statali. perché quando lo Stato, dopo dibattiti, dopo votazioni, stabilisce ad esempio una legge sull'aborto, mettiamo, per fare un esempio, e dice che l'aborto è permesso, perché la maggior parte dei parlamentari o dei votanti ritengono che l'aborto non è male e quando lo Stato poi promulga quella legge, non è che si comporta in maniera così diversa da un'autorità religiosa che in un paese governo islamico, dopo dibattiti, magari tra gli Ayatollah, tra gli ulema e votazioni nei consigli degli ulema, si decide che l'aborto è un male e va proibito. Noi dobbiamo capire questo. Oggi da noi, per esempio, la Chiesa si limita a dare consigli perché non ha più potere temporale. In passato invece faceva quello che oggi fa lo Stato, cioè era la Chiesa che decideva ciò che è bene e ciò che è male e lo imponeva a tutti. Cosa che invece oggi fa il Parlamento e lo Stato. In Italia, per fare un esempio, prendiamo gli anticoncezionali. La Chiesa dice che non vanno utilizzati e lo Stato non solo li permette, ma ci fa pure distributori automatici, perfino vicino alle scuole li ha permessi proprio per evitare contagi o esperienze di incidenti indesiderati, chiamiamoli così. Perché questo? Perché il comportamento sessuale è cambiato moltissimo rispetto al passato. Poi adesso ci sono anche gli anticoncezionali, che prima non c'erano, o quantomeno erano più rudimentali. Così i giovani si trovano a sentire spesso in Italia due campane diverse, per esempio quello che dice la Chiesa e quello che dice lo Stato. E hanno un margine di decisione, perché nessuno li punisce nel caso, per esempio, dei contraccettivi se questi seguono i consigli della Chiesa o seguono i consigli dello Stato. Nessuno li punisce, come potrebbe capitare, ad esempio, per quanto riguarda invece la Shariah, la legge islamica. Però, diversamente dagli anticoncezionali, spesso gli Stati europei, e qui ci sono delle analogie con la Shariah, impongono in maniera obbligatoria certe regole legate alla sfera personale ed etica. Quando, ad esempio, in Arabia Saudita lo Stato dice alle donne, voi adesso non potete più uscire di casa senza velo, agisce per un principio dogmatico che è legato anche a un principio etico, cioè è giusto fare così e non si discute. Però se noi pensiamo alla libera e laica Francia, la Francia vieta alle donne di mettere il velo, adesso è uscita una legge da pochi anni, la donna non è più libera di mettersi il vero nelle scuole e in altri contesti, perché? Per lo stesso motivo alla fine dello Stato dogmatico ed etico islamico, cioè perché è giusto fare così, perché è giusto fare così. E allora uno Stato a carattere dogmatico ideologico, qualunque sia la definizione che diamo, uno Stato lago come la Francia, uno Stato teocratico, si fondano sulla stessa logica da questo punto di vista, se ci riflettiamo, perché alla fine ti dicono che quella cosa non va fatta, punto e basta, perché lo decido io che è giusto fare così. Poi ci sono le differenze, come abbiamo visto che l'Islam è molto variegato, così all'interno nell'Occidente ci sono paesi più liberali, come gli Stati Uniti, la stessa Italia, perché per esempio in Italia è lasciata più libertà le varie comunità religiose, mentre la Francia ha assunto provvedimenti più restrittivi e molto più autoritarie nell'imporre a tutti e anche a chi appartiene ad altre religioni i principi morali dello Stato, cioè la sua ideologia. Ma con tutto sto casino che è successo con le vignette di Charlie, adesso ma lo sapete che c'è una legge in Francia che se parli male della bandiera francese nel 2010 l'hanno ammesso, c'è 1500 euro di multa, questa è la famosa libertà. Poi di Maomet uno può dire quello che vuole di Mohammed, del profeta, è una follia. Allora cerchiamo di essere obiettivi, non dico che noi siamo obiettivi, dico che proviamo però a comprendere diverse posizioni. Perché andiamo in un mondo dove questa cosa va fatta adesso, avevo fatto una playlist sull'Islam e potevo concludere lì, ma invece queste riflessioni le ho voluto fare proprio insieme perché è molto importante, anche se il mio è un canale piccolo, però cominciare parecchi scritti, è molto importante che ci siano persone che riflettano su queste cose se non vogliamo lasciare i nostri figli vivere in un futuro infernale. Oggi si parla tanto di stati islamici, della sharia, questa legge religiosa, questi stati visti come incivili, come arretrati perché non c'è separazione tra stato e religione, se ne parla solamente come una situazione legata all'integralismo religioso, una situazione pericolosa, mentre invece si dice che per esempio già Gesù aveva detto da te a Cesare quel che è di Cesare e Dio quel che è di Dio, separando in fondo con questa frase il concetto di stato, dal concetto di religione. Ma in realtà se noi ci riflettiamo, ma che c'è di così diverso nella concezione dello stato in paesi occidentali moderni cristiani e la concezione islamica della sharia e dello stato islamico? Sono stati che alla fine si fondano su dei principi dogmatici gli uni e gli altri che non possono essere messi in discussione. tu in paesi europei oggi non puoi dire secondo me l'omosessualità è una perversione perché ti denunciano e come vedremo ci sono pure paesi dove ti arrestano se tu dici una cosa del genere. Questa è libertà? Cioè ci si può mettere lì con questo atteggiamento sempre di superiorità e di supponenza rispetto ai paesi islamici? Non sono molto simili tanti atteggiamenti? Il problema è che sempre più spesso le leggi dello stato vietano proprio di conservare determinate abitudini religiose e comportamentali e in particolare proprio degli islamici come appunto il velo la poligamia no? Comunque il tema tra quelli che sono i confini tra stato e religione in realtà è stato discusso da sempre. Platone nella Repubblica nel Minosse ne parla, Sant'Agostino, Decivitate Dei ne parla a lungo, filosofi medievali pure hanno scritto molte pagine su questo. Poi per non parlare il leviatano di Hobbes fino a arrivare a Voltaire, a De Maestr, ma non solo poi in Europa. In Cina Confucio ne parla, lo Z, tra gli arabi Al-Faria, Verroè e ovviamente sono posizioni molto molto diversificate a seconda del periodo storico e delle culture. Lo Stato adesso, secondo una concezione europea, deve essere ridotto al minimo, deve ridurre al minimo i suoi compiti e questo dovrebbe limitarsi a punire solo i criminali, a impedire che esplodano atti di violenza e va bene. Però sarebbe auspicabile che ogni singola comunità di individui possa gestirsi come vuole, quantomeno sul suo territorio. L'Aoze, per esempio, aveva una concezione che consigliava al re di lasciare in pace le persone, cioè diceva che ogni piccola comunità di villaggio, ogni clan di famiglie, è come uno Stato a sé e ha diritto di autogestirsi e di essere lasciato in pace e quindi di vivere tutta una serie di pratiche come ritiene più opportuno. E gli Stati dove oggi è in vigore la Sharia in realtà fanno esattamente l'opposto, perché lì si leggifera su ogni minimo particolare del comportamento delle persone, perché ti dice proprio tu puoi fare questo e non puoi fare quest'altro e ognuno è obbligato a essere credente in quella determinata religione e non c'è spazio vitale per altre forme religiose e anche per forme agnostiche che vengono letteralmente proibite. La differenza rispetto agli Stati europei è che mentre da noi le leggi vengono emanate da un Parlamento, adesso nell'Europa moderna, prima c'era il re, nell'Islam invece furono emanate da Mohammed, dal profeta in persona, che diceva di riceverle da una voce divina che parlava attraverso di lui, no? Ecco perché è profeta. A prescindere da questo però anche quelle leggi erano finalizzate a governare lo Stato, pur se basate su principi etici e religiosi, ma se ci pensiamo, qualsiasi legge anche oggi è basata su principi etici e religiosi, perché a volte si diceva perché lo Stato è etico, ma qual è uno Stato non etico? Pensiamo che qui in Italia fino a pochi anni fa la legge proibiva la bestemmia e l'adulterio quando ero piccolo io, no? 2000 anni fa, levarono il delitto d'onore, perché se uno entrava a casa e trovava la moglie con un altro, poteva ucciderlo e non andare in galera e questo fino a pochi decenni fa, quindi ritenuti e stanno lì a scandalizzarsi. Perché l'adulterio della bestemmia venivano puliti dalla legge italiana, perché erano ritenuti delitti che danneggiavano l'ordine sociale e la sensibilità degli altri. E allora in una società con una forte sensibilità religiosa la bestemmia è un'offesa, è una violenza fatta agli altri. E se ci pensiamo, pensiamo oggi a quanto è importante questo fattore di sensibilità, oggi ti puniscono per esempio se va in giro nudo, perché uno può dire vabbè ma se io faccio le vignette sul momento che male faccio, se io bestemmio che male faccio? No, tu offendi una sensibilità, la puoi offendere anche in maniera molto molto profonda, dicevo l'esempio di andare in giro nudo, se tu va in giro nudo ma che male fai? Non fa nessun male, eppure offendi la sensibilità altrui e quindi lo Stato ti punisce con stazioni penali. Questo è il paradosso, per cui tu puoi andare in giro con un perizoma e a tette scoperte adesso su una spiaggia e all'interno della città questo non lo puoi fare, se no ti becchi una multa, ti fermano, ti chiedono documenti. E se una ragazza in Francia va a scuola con il velo, fa del male a qualcuno, una ragazza che è scritta a un liceo, non danneggia il prossimo esattamente come non danneggia il prossimo andare in giro nudi, però secondo un certo tipo di logica può offendere la sensibilità di molte donne, oppure dare adito a fanatismi che potrebbero aprire la strada ad atti di violenza. Questi sono ragionamenti che da una certa prospettiva, cioè cerchiamo, ripeto, di essere imparziali per quanto possiamo, insomma, che poi nessuna può essere imparziale al 100%, no? Però questo tipo di ragionamenti che vietano, dicevo, il velo alle ragazzette liceali possono essere anche rispettabilissimi, però possono essere anche molto discutibili. Lo stesso tipo di ragionamento viene fatto da coloro che in certi paesi islamici e in Europa fino a cent'anni fa sostenevano che le manifestazioni di omosessualità o i baci in pubblico arricavano un'offesa alla sensibilità degli altri, un danno sociale e perciò andavano puniti. E' dalla mia generazione che si è cominciato, quando ero ragazzetto io, io sono del 58, che si è cominciato, mi ricordi che ci si poteva baciare per strada, ma ancora era vista come una cosa molto, molto offensiva da parte di molti. E in molte società l'adulterio è visto come una violazione dell'armonia del matrimonio e quindi una destabilizzazione della pace sociale. Dobbiamo metterci gli occhiali degli altri per comprendere. Si può discutere poi se questi vadano considerati i delitti da punire, comportamenti personali in cui lo Stato non deve intervenire, però c'è da dire che la maggior parte degli Stati europei, fino a tempi recentissimi, li punivamo pure noi in Europa. Quindi non è così strano che lasciariali consideri tali. E' un diritto di ogni Stato a decidere le leggi che ritiene più opportune, attenendosi al suo contesto storico, sociale, culturale. E da questo punto di vista ogni Paese è molto diverso e bisogna tenere molto in conto questa cosa. Altrimenti cadiamo noi in una forma di integralismo senza rendercene conto, perché indipendentemente se ci sono leggi emanate dallo Stato, leggi emanate della religione, noi dobbiamo chiederci in che contesto, che funzione hanno queste leggi. Per esempio la proibizione di bere alcolici nei Paesi islamici. Ma quante volte ho sentito dirla pure questa cosa? Ad esempio in Arabia Saudita le donne non possono neanche prendere la vera. Non si può bere alcolici nella maggior parte dei Paesi islamici. È come una grave limitazione alla libertà individuale. E' il provvizionismo che c'era negli Stati Uniti e per non andare agli Stati Uniti il divieto di fumare marijuana qui, di farsi una bella canna o il divieto che c'è da poco di fumare nei locali pubblici. E allora bisogna rendersi conto che non vanno giudicati con questa facilità, soprattutto culture che sono veramente molto diverse da noi. E poi questo fatto che spesso viene detto che però loro vedi vengono qua perché stiamo meglio noi. Questo punto pure è da vedersi. Perché poi il fatto che molte persone in Asia e in Africa tendano a venire in Occidente e ad aderire al modello occidentale non significa necessariamente perché questo è un modello buono e giusto. Spessissimo sono affascinati dall'Occidente, dalla ricchezza dell'Occidente, dalla libertà, dalla giustizia dell'Occidente, perché questo gli viene trasmesso attraverso la televisione. Ma vedetevi la mia playlist su Hollywood, sul condizionamento dei servizi segreti e sulla cinematografia di Hollywood che comincia dagli anni 30 e c'è ancora oggi. E quelli sono strumenti di propaganda. Voi vedete un film di Star Trek, mi sembra bello, mi sembra un film di fantascienza e non vi rendete conto che quelli mischiando il venusiano con il marziano, facendolo stare insieme, facendo decidere insieme, stanno proponendo un'idea di meticciato e di democrazia. E così l'Occidente è molto bravo a proporre se stesso e allora molti subiscono il fascino della propaganda dell'Occidente. Perché la libertà, la giustizia, questo viene trasmesso attraverso la televisione, film e la pubblicità. Ma noi sappiamo quanto questi mezzi di comunicazione falsificano la realtà. E allora il fascino che Mezzomondo nutre per questo stile occidentale è un inganno, diciamocelo in maniera lampante. Molti sono affascinati perché non sanno come stanno realmente le cose qui. Vedono solo quello che gli propone la televisione, i film, quello che appare in superficie. Quindi questo prestigio immenso di cui gode l'Occidente da parte di molti asiatici e molti paesi anche africani, perché moltissimi lo disprezzano l'Occidente, ricordiamocelo, molto di questo è propaganda. Testimonia semplicemente l'abilità che hanno gli occidentali nel farsi propaganda. Eppure qui ci sono delle restrizioni che sono fortissime. C'è stato un pastore protestante svedese, nel 2003 questo, il pastore Grinna. Questo stava in chiesa, stava facendo una predica e diceva che, citava la Bibbia, di Brian Biblice diceva che per la Bibbia l'omosessualità è contro natura. Ma sapete che fu denunciato, fu condannato a un mese di prigione, si fese un mese di prigione, poi fu rilasciato, ma il caso fu portato alla Corte Suprema, perché il codice svedese prevede una condanna di carcere fino a due anni se tu affermi che l'omosessualità è contro natura. Perché il dissenso verso il matrimonio omosessuale è equiparato all'incitamento all'odio riaziale. Pensate, quindi, e questa è la libertà dei paesi scandinavi. Un altro esempio, 2012, no, 2000 anni fa, 2012, in Gran Bretagna, Adrian Smith si chiamava questo, quel padre di due bambini, fu denunciato e condannato per aver scritto sul suo profilo di Facebook, un profilo privato, che il matrimonio deve essere tra uomo e donna e non tra uomo e uomo. E questo è stato preso come un insulto contro la dignità degli omosessuali. E a questo doveretto gli hanno decurtato lo stipendio del 40%, ogni mese prende il 40% in meno dello stipendio perché ha osato dire che il matrimonio ci deve essere tra uomo e uomo, ma tra uomo e donna. E allora pensiamoci prima di dare giudizi affrettati sugli altri. Riprenderemo il discorso. Per il momento è tutto. Un caro abbraccio, Marco Cosmo.